Allora, che compiti avevate per oggi? Dovevamo imparare Giulio Cesare Lo so io! Ce lo so io, ce lo so, che sai te? Ce lo so io Bene Pierino, sentiamo Sì, allora una mattina Giulio Cesare fu svegliato Ah Cesare, siamo attaccati dai galli Cesare dice, ma che me frega mi chiamate i gallini No, i galli, sono i francesi Allora chiamate i centurioni Non ce so i centurioni, sono finiti E allora mettetevi i bretelli E che so i bretelli? Allora chiamate l'aviazione Ma se l'aviazione è ancora auto e non vent'altro Ma allora chi è sto Ponzio, pilota che ci abbiamo? Sai Pierino, non mi sei piaciuto affatto Strano perché io con le donne c'ho sempre un certo fascino Vai al posto, va Con fischio o senza? Ma quale fischio? Così